E what's up a tutti ciurma e benvenuti raggiocherini in questa nuovissima reaction Sapete tutti ragazzi quanto alla sottoscritta piaccia anche il cinema E dobbiamo stare calmi e tranquilli, dobbiamo stare buoni Questa ovviamente è una cosa che sto cercando di dire a me stessa Perché ragazzi, perché è uscito, ormai penso qualche giorno fa Anche se nel momento in cui sto registrando ragazzi è uscito appena ieri Il trailer ufficiale del nuovo film di Ridley Scott Napoleon Piccola premessa Napoleone è uno dei miei personaggi storici preferiti Per quanto, sì vabbè regà, quello che ha fatto, quello che non ha fatto A prescindere da tutto, quando a scuola ho studiato la storia Napoleone è sempre stato uno appunto dei miei personaggi storici preferiti E quindi già da lì, insomma, cioè uno dice no se parte già Che del tipo mio dio fanno un film su Napoleone Quindi wow, cioè è una cosa super toppe Perché già quando ho saputo che avrebbero fatto un film su Napoleone Del tipo wow, no? Rimango stupita E in ogni caso ragazzi se doveste sentire qualche rumore un po' d'aria che arriva È il ventilatore perché sennò veramente mi sa che il rischio di sciogliermi oggi E quindi già il mio entusiasmo era alto, no? Era grande quando ho saputo che Ridley Scott avrebbe fatto un film su Napoleone Poi siccome evidentemente già questo non fosse già abbastanza Che cosa fanno? Che cosa fanno? Giusto per farmi impazzire un pochettino di più A interpretare Napoleone ragazzi hanno scelto Joaquin Phoenix Che forse attualmente è uno dei miei attori preferiti Lo stesso Phoenix che ha interpretato il Joker Joker tipo ragazzi epocale Cioè qualcosa veramente alla pari con Heath Ledger Cioè qualcosa di veramente Oh mio dio Cioè che quando già regà reactavo ai trailer Prima che uscisse il film Joker Ero già tipo nella completa follia Ok questo per farvi capire Quanto comunque fosse entusiasta all'epoca Di sapere che Joker sarebbe stato interpretato da Phoenix E dopo averlo visto nei trailer Solo dai trailer ragazzi Avevo già capito che sarebbe stato un qualcosa di meraviglioso E infatti le mie sensazioni non si sbagliavano E quindi patapum E te giocherina facciamo un film su Napoleone E sai che? Facciamo interpretare Napoleone Da Phoenix Cioè io penso di stare impazzendo già Senza aver visto il trailer Anzi già impazzivo Già impazzivo Quando ho saputo tutto ciò Cioè la ciliegina è stata Phoenix Regà io sento di poter morire Quindi adesso Ho un hype assolutamente Spaziale Per questo trailer Quindi per questo film Che a quanto pare è scritto Nello stesso titolo di questo video ragazzi Dal 23 novembre al cinema Quindi tipo a novembre Probabilmente io sarò nelle sale Già ancora prima che inizino a trasmetterlo Quindi in vista del 23 novembre Io mi andrò a piazzare lì Farò tipo i funghi Il muschio Le radici Sulla poltroncina del cinema In attesa ovviamente che lo proiettino Sono Sono Ragazzi Vraimenti Cioè Sto implodendo So che non Sam Cioè forse anzi un po' Sto implodendo Sto implodendo Perché non so che altro aggiungere Io penso che già queste due cose Ragazzi possano far uscire un qualcosa Per me di assolutamente Meraviglioso Un film su Napoleone Con Phoenix Cioè praticamente Già solo dicendo queste due cose Hai detto tutto Hai detto Cioè hai creato un universo Praticamente Ok Perlomeno per me ragazzi Quindi siccome non riesco più a contenere L'entusiasmo E il mio hype Direi di andare a vedere questo trailer Che ovviamente è uscito anche in italiano Dura due minuti e mezzo quasi Un bel respiro Non sono mai abbastanza pronta Per queste cose Andiamo A guardarlo Senza dubbio avete visto I tumulti nelle strade Dobbiamo servire da esempio O cadranno altre città Che cosa fareste Se l'incarico di questa difesa Fosse trasferito a voi Vi avevo promesso un grande successo Cos'è questo costume che indossate? Questa è la mia uniforme A Tolone ho condotto i francesi alla vittoria Vi chiamate? Napoleone E ha cambiato il corso della mia vita Napoleone Io sono destinata alla grandezza Ma chi ha il potere Vede in me solo una spada Mi consiglio di salire al trono Come re Vogliamo votare? Luca vita l'imperatore Luca vita l'imperatore Questo parassita Ha tenuto il nostro mondo in ostaggio Con i suoi egotismi E la sua mancanza Delle più semplici buone maniere Voi vi credete grande? Siete soltanto un brutto Che non vale niente Senza di me L'Europa sta unendo Tutte le sue forze contro di me Quale sarà l'esito finale Se fallirete? Vostra maestà Ci hanno scoperti Bene Ghiaccio! È una trappola! Se faccio un errore Sono il primo ad ammetterlo Ma io non ne faccio No, 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 no Fermi, fermi State tutti fermi Fermi, fermi, fermi Ok Allora ragazzi A me mi sono venute le lacrime agli occhi Come solitamente mi succede Quando non mi sbaglio mai Riguardo un film E credo proprio che riguardo questo film Le mie sensazioni non si sbaglieranno ragazzi A parte che Io penso che già lui Valga tutto il film Probabilmente Anzi È ovviamente lui Cioè È attorno a lui Che è ruota tutto il film Ovviamente interpretando lui stesso Napoleone e Bonaparte Ma credo che già solo la sua presenza ragazzi Faccia tutto In questo film E Allora A parte ragazzi Che comunque stiamo parlando di Ridley Scott Un grandissimo regista Che ha girato Grandissimi film E infatti Già comunque Regà Da quello che si vede in questo trailer Secondo me questo film Phoenix a parte Sarà Una cosa davvero Bella Una cosa davvero bella E grande Perché comunque ci sono tante scene ragazzi Di guerre Di battaglie Che Sembrano fatte davvero In grande Cioè fatte regà Veramente con le palle E quindi Già secondo me Di regia E di fotografia Perché già la fotografia ragazzi Dal trailer Sembra Una figata Cioè Io credo che questo film Abbia tutte carte vincenti Cioè Già pure se la colonna sonora Assomiglia Lontanamente a quello Che abbiamo sentito Nel trailer Penso che questo film Non potrà avere difetti Ovviamente sto parlando ragazzi In maniera prevenuta Sarà comunque che Io sono di parte Perché c'è a me Basta che mi date Phoenix Io già gongolo Gongolo tantissimo E vederlo in questi panni ragazzi Veramente mi fa venire Lacrime agli occhi Perché vi ripeto Per me Napoleone È un personaggio storico Bellissimo Importantissimo Tra l'altro Nella storia dell'uomo Vederlo interpretato Da uno dei miei attori preferiti Mi commuove ragazzi Cioè poi lui Poi lui Cioè che ha quella faccia Secondo me ci sta da dio Tra l'altro In questo personaggio E mi ha dato le stesse sensazioni Che ho avuto Quando l'ho visto Nei panni di Joker Perfetto È perfetto Cioè lui c'ha quella faccia Lo vedi Nei panni di Napoleone È perfetto Secondo me Sarò di parte Probabilmente sì Ma mi sembra perfetto Sono commossa Commossa e senza parole Perché secondo me Sto film sarà una bomba Probabilmente Andrò al cinema Due tre volte A vedermelo Già me lo sto Cioè regà Già mi sto facendo Il mio film In testa Di me che vado al cinema E gongolo Dall'inizio alla fine Non so quanto durerà il film Pure se dovesse durare Cinque ore Non mi interesserebbe Lo guarderei Dall'inizio alla fine Dieci volte Non lo so Cioè sono quelle sensazioni Sono quelle sensazioni belle Non credo proprio Che rimarrò Delusare a questo film Non credo Anche perché ripeto Stiamo parlando comunque Di Ridley Scott Stiamo parlando di un prodotto Che sarà sicuramente Qualcosa di alto livello Ragazzi E poi con la sua Interpretazione Cioè Non ci sarà niente Che stonerà in questo film Sono sicura al 100% Le mie sensazioni Raramente si sbagliano Ragazzi Non è per tirarmela Ma perché nella mia vita Ho sempre visto Le mie sensazioni Non si sono mai sbagliate Riguardo specialmente Le cose che mi piacciono E quindi Sensazioni strapositive Regà Chi aspetta novembre Io non posso aspettare novembre Non posso aspettare novembre Farò i vermi Fino in novembre Poi mi andrò a piazzare Dentro le sale Nei primi di novembre Probabilmente Non vedo l'ora Non vedo l'ora Ho hype A un milione Altro che hype a mille A un milione Sarà sicuramente Uno di quei film Che rivedrò Almeno due volte Al cinema Cioè Sono esperienze ragazzi Da fare Al cinema Quindi Io sinceramente Non vedo l'ora Sono tipo Stra emozionata E questo Già si era capito Come sempre ragazzi Aspetto i vostri pari Qua sotto in commento Mi farete sapere Che cosa Ve ne è sembrato Se vi interessa Se non vi interessa Ovviamente potrebbe Anche non interessarvi Perché comunque Un film storico Principalmente Ma secondo me Non è uno di quei film storici Ragazzi che te fanno Du palle così Cioè E poi io con lui Mi potrei sorbi Qualsiasi cosa Qualsiasi Questa reaction Termina qui Grazie a tutti Un bacione L'obdosio a tutti Ragazzi Da giocherina Ciao No Ciao 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 Grazie a tutti.